Grande partecipazione in particolare degli esponenti del mondo della politica regionale all'iniziativa Abruzzo Insieme Ora, svoltasi nella sala polifunzionale della provincia di Teramo promossa dal sindaco d'Alberto organizzata per favorire il convolgimento e l'aggregazione di tutti i partiti, le forze civiche, riformiste e progressiste abruzzesi attorno a un progetto forte e credibile alternativo all'attuale amministrazione regionale. Teramo è un passaggio importante, intanto reduce da un risultato elettorale significativo per l'area alternativa alle destre grazie alla costruzione di un progetto che è nato nel 2018 un progetto virtuoso di collaborazione fra forze politiche e forze civiche non politicamente neutro ma forze civiche che hanno costruito questo percorso, questo progetto è stato confermato proprio nelle elezioni dello scorso maggio. Teramo è un esempio come tanti altri modelli che a livello di amministrazioni locali hanno messo insieme forze civiche e forze politiche dello stesso schema che noi riteniamo debba essere applicato anche a livello regionale. Certo ci sono difficoltà maggiori ed è un quadro politico diverso ma è la strada virtuosa da costruire attraverso questo dialogo tra civismo e forze politiche che costituisce appunto la strada maestra per realizzare un percorso alternativo al governo regionale. Oggi è un primo incontro, un confronto con il territorio, con le forze politiche e con il territorio che dovrà essere ovviamente replicato io ritengo anche in tutte le altre province. La volontà è quella di proseguire, sviluppare e ampliare un percorso comune che lo stesso Dalberto insieme ad altri amministratori locali ha già avviato da tempo e che guarda a rafforzare quel modello che vede insieme forze politiche e civiche in un progetto condiviso e di ampio respiro. Io credo che, ed è un tema fondamentale, che la scelta della coalizione, la definizione della coalizione, quindi a cascata anche del candidato, debba essere, debba venire fuori dal territorio. E questo è molto importante anche per contrastare il verticismo, il centralismo della destra regionale. E questo appunto significa che uscirà fuori inevitabilmente, come è giusto che sia, da un confronto fra le forze politiche che stanno mettendo in campo un percorso e le forze civiche che insieme costruiranno questa piattaforma politica con un comune denominatore che si chiama proprio Futuro dell'Abruzzo.